Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me, però, importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché, anche se non sono consapevole di una colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate, perciò, giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luci i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore. Esaudirai i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Affida al Signore la tua via. Confida in Lui. Ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia. Il tuo diritto. Come il mezzogiorno. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fai il bene e avrai sempre una casa. Perché il Signore ama il diritto e non abbandona i Suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia. È loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dei malvagi e li salva. Perché in Lui si sono rifugiati. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù. I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere. Così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta al pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in utri vecchi. Altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in utri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo perché dice il vecchio è gradevole. che beve il vino vecchio Grazie a tutti